A salutare Vincenzo Spadafora, come ben sapete è il nostro ministro dello sport, è collegato con noi via Skype, è arrivato un certo ritardo perché appunto abbiamo avuto problemi di comunicazione, perché sono giorni molto difficili in cui anche riuscire a collegare le persone è molto più complicato del solito. Il ministro è solo nel suo ufficio al ministero per motivi di sicurezza, poiché è tardi, io già da adesso, ministro, la rinvito per domani perché mi sarebbe piaciuto parlare più lungamente con lei. Però volevo arrivare a un momento, due domande fondamentali, ci saranno secondo lei dei rafforzamenti delle misure, è in corso una riunione a Palazzo Chigi, anche le opposizioni stanno chiedendo che si vada addirittura anche oltre, che si chiuda di più, è quello che sta accadendo, se può anticiparci qualcosa su questo. E poi arriviamo a parlare dello sport, che è il grande tema di cui lei si è occupato in questi giorni. Intanto buongiorno, io penso che questo dipenderà anche molto dalla reazione dei nostri concittadini in queste ore, perché purtroppo anche i provvedimenti che abbiamo preso nelle ultimissime ore sono stati necessari proprio perché abbiamo visto che purtroppo non c'era una grande consapevolezza della difficoltà che sta vivendo il Paese. Purtroppo non c'è stata, mi spiace dirlo, soprattutto tra i ragazzi, io capisco benissimo quanto sia difficile per un giovane subire delle limitazioni, però purtroppo non possiamo più permetterci nessuna di quelle scene che abbiamo visto in questi ultimi giorni, di assembramento di giovani, di folle, di ragazzi sulle spiagge o altrove. Per cui questo provvedimento che noi abbiamo fatto già questa notte è già un primo enorme passo avanti. Vediamo in queste ore, stiamo monitorando con la protezione civile, minuto dopo minuto, se c'è un rispetto di queste regole o se sarà necessario appunto inaspirle ulteriormente. Scusi, stiamo mettendo qui in video questa locandina, niente scuola, tutti a sciare della Betone. Vogliamo dire che è una stupidaggine gigantesca anche questa, che è stato un errore madornale? L'abbiamo vista ieri, purtroppo ce ne sono anche tante, stiamo veramente denunciando questa ignoranza di tutte le persone che tra l'altro approfittano anche di questo momento, magari per rilanciare comunicativamente o a livello di marketing proposte stupide come queste che non fanno altro che aiutare purtroppo ancora di più la possibilità di contattare.